la donna che riapriva i teatri di francesco ragnari martinotti sono presenti francesco ragnari martinotti regista giovanni caccamo e camillo esposito di cape town giovanni caccamo credo che non abbia bisogno di presentazioni ma in questo film ha un ruolo da attore testimone di una bellissima storia piena di passione sono molto contento di poter moderare io questa conferenza perché è veramente la storia di una di una passione per per il teatro cosa che ha fatto parte della mia vita anche per per tanti anni francesco a te a te la parola ma sì è un documentario che è un particolare oggetto cinematografico perché per raccontare questa storia che appunto non credo che abbia alla base tanti estimatori a parte te e quelli che amano il teatro ho cercato di condirla con altre cose che la rendessero più appetibile anche per le nuove generazioni perché il fatto di raccontare una storia di un teatro che negli anni 90 rischiava di diventare un parcheggio rischiava di diventare un parcheggio ma a chi interessa oggi una storia del genere mi sono chiesto questa la prima no anche perché nell'ultimo anno ne sono stati chiusi in italia mille di teatri quindi va da sé quindi ho detto quelli che hanno a cuore il teatro dicono è un'altra notizia brutta e si continuano a rassegnarsi invece ho detto bisognerebbe trasmettere a le nuove generazioni che esiste un patrimonio culturale antico storico che ha radici profonde nel nostro paese al quale forse tutti non solo noi dovremmo essere più attaccati dovremmo essere più più legati e dovremmo arrabbiarci di più quando vediamo che piano piano questo patrimonio sta scomparendo tra l'altro tra l'altro a parte che tu in questo film racconti anche una storia di una donna diciamo in termini semplici con gli attributi una donna piena di personalità una donna che non si arrende di fronte a nessun tipo di evidenza perché a un certo momento lei ha proprio delle un'evidenza di grandi difficoltà perché si parla di miliardi di lire per poter cercare di salvare questo spazio e e poi racconti anche la storia di un gruppo di giovani che che fanno teatro che fanno cioè lo cantano ballano eccetera sì diciamo per far sì che capiscano anche di più loro che non hanno visto il film io spero che qualcuno l'abbia visto è la storia del politeama di prato che è un che è stato costruito nel 1924 quindi anche dal punto di vista architettonico e storico importante perché un teatro liberty che oltretutto ha un'altra caratteristica la la parte superiore che la cupola apribile meravigliosa no questi cinema e teatri che si aprivano facevano entrare la luce del sole dentro e poi si è subito in cemento armato nervi costruito in cemento armato armato da il primo che utilizzò il cemento armato in italia che fu questo l'architetto importantissimo nervi ecco questo teatro a un certo punto a causa di una tragedia che accadde qui a torino che è stato l'incendio di un cinema ma il cinema statuto dove morirono diversi spettatori questo teatro doveva essere rimesso a norma e il costo di questa operazione era talmente alto per cui i proprietari non avevano i soldi e diedero questo questo immobile alla banca perché erano pieni di debiti e la banca aveva deciso di farne quindi di demolire tutto l'interno del teatro Liberty e farne un garage multipiano ecco questa cosa che oggi si accetterebbe passivamente non fu accettata da questa signora che si chiamava Roberta Betti che disse ma noi non possiamo accettare che il nostro la nostra città perda questo luogo di cultura e di spettacolo e creò una public company cioè una società di azionariato popolare e questa cosa non è semplice perché non è che uno dice decido di fare una public company vado in banca o vado a notaio dove andare alla consob perché poi dovevi impegnarti a vendere tutti i titoli che avevi previsto per poter finanziare questa public company quindi a un certo punto ci fu questa donna pratese una donna del popolo che arriva alla consob dove c'erano tutti i vertici della consob e lei li trattò parlava pure pratese li trattò così come dei insomma delle persone normali e quando questi dissero ma guardi signora non ci faccio avere del tempo perché noi abbiamo un problema che se i titoli non vengono venduti la consob non può autorizzare la forse proprio quello speravano esatto lei disse va bene allora se non li rimangono dei titoli invenduti me li compro io e quindi lei lei perché essendo poi invece una donna concreta che insieme a una sua amica e compagna di vita avevano una società un'azienda di pulizie erano anche solide dal punto di vista due imprenditrici importanti e quindi loro salvarono questo teatro che ancora aperto lei è stata la direttrice artistica fino al 2020 quando è morta e oggi continua l'attività del teatro ed è uno dei teatri più importanti della toscana poi finisco e facciamo altre domande e quello che dicevi te all'interno di questo teatro dato che lei amava era anche stata in passato una compositrice e una quindi una che amava la musica decise di fondare una scuola di musical e quindi nel racconto del documentario interviene anche questo gruppo di ragazzi che studiavano all'epoca che abbiamo girato il documentario nella scuola che devono mettere in scena un saggio per il fine anno del loro corso e questo saggio racconta esattamente la storia del sabotaggio di questo teatro quindi la realtà si mischia con lo spettacolo ed è infatti sono sono più più storie che si intrecciano in un contesto che però diventa veramente poi in monolitico perché poi è una veramente una storia di passione per l'arte caccamo volevo tu sei uno di quei ragazzi sì io sono uno di quei ragazzi che hanno beneficiato di questa follia di questo coraggio perché a 16 anni la mia prima esperienza importante formativa fu proprio questa scuola di musical arte in scena a prato io vivevo in sicilia frequentavo il liceo scientifico enrico fermi a ragusa e durante i weekend a weekend alterni partivo per prato con la freccia del sud un treno che in 13 ore raggiungeva da catania la città di prato e mi ricordo che mia madre da un lato rassicurata dalla mia insegnante di canto che era una delle docenti di questa scuola di music con l'elisa turla altra colonna di di questa scuola lei mi disse frequenta questa questa accademia perché sicuramente può darti una formazione a 360 gradi mia madre mi disse forse conviene non dire nulla ai professori perché probabilmente insomma potrebbe essere la giustificazione per iniziare a dire ma sai da quando fai questa scuola di musical sei meno attento insomma e e quindi diciamo partivo un po in incognito il venerdì finivo la scuola andavo direttamente alla alla stazione degli autobus prendevo l'autobus per catania che impiegava circa due ore per arrivare alla stazione e poi partivo con questa freccia del sud e arrivavo l'indomani mattina quindi erano le c'erano i vagoni letto arrivavo l'indomani mattina alle sette circa a prato e alle otto e mezza nove iniziavano le lezioni il sabato la domenica finivano intorno alle 15 io tornavo alla stazione il lunedì mattina alle otto ero nuovamente a scuola se non è passione questa esatto veramente mi tolgo questa è una risposta a tutti coloro che mi chiedono ma che consiglio puoi darci per voglio fare il cantautore ecco iniziamo a prendere un po di frecce del sud a weekend alterni però ecco ho un ricordo molto nitido di roberta betti della sua della sua allegria della sua presenza il suo essere in qualche modo materna ma anche spronarci in qualche modo a fare sempre di più a fare meglio per lei in qualche modo questa scuola rappresentava una famiglia no e peraltro cercava in qualche modo di far gravitare intorno a questa scuola di musical una serie di persone di straordinaria caratura e preparazione che potevano effettivamente consentirci poi di di crescere concretamente questo musical alla fine dell'anno era veramente uno spettacolo incredibile cioè anche a livello tecnico avevamo comunque un equipaggiamento di tutto rispetto quindi fu effettivamente il mio primo anche insegnanti assolutamente sì c'era franco miseria simona marchini ranco yokohama elisa turla insomma è stata un'esperienza per me molto importante anche per mettere alla prova il mio talento anche quell'andare verso la conquista cioè anche il sacrificio in qualche modo no io penso che oggi allargando un po' così il discorso quello che manchi è proprio sono proprio quegli ostacoli tra il desiderio e la realtà dei ragazzi che possano consentire a ciascuno di percepire il valore del raggiungimento di un sogno no cioè il fatto di dover fare un sacrificio per raggiungere un obiettivo è il tragitto che ci consente di chiederci ma io tengo veramente a questa cosa è veramente quello che è l'unica domanda che bisogna farsi esattamente e quindi accresce poi il valore di tutto ecco roberta betti ci ha permesso questo e quindi le devo molto grazie complimenti soprattutto per le frecce del sud volevo adesso fare una domanda all'aspetto produttivo camillo esposito come ti ha convinto martinotti a intraprendere questo questa avventura e c'è la luce rossa ok è tutto a posto ok ma in realtà siamo al terzo documentario con francese quindi è iniziato proprio un percorso produttivo da dal 2015 quindi insomma si condivide spesso storie da documentare poi martinotti ha un è originale trova delle storie originali trova delle storie che hanno bisogno di essere raccontate e lo racconta con con uno stile narrativo assolutamente insolito come in questo documentario è verissimo sì e abbiamo pochi minuti perché abbiamo cominciato in ritardo se c'è qualche domanda prego buongiorno nicol bianchi per cene città news o due domande una per martinotti una per giovanni caccamo al regista chiedo questo perché per una storia di mecenatismo contemporaneo popolare nel senso più nobile del termine abbia pensato che il tono del racconto da favola cioè inizia proprio con il classico c'era una volta e con una cantastoria d'eccezione fosse quello più calzante per per questa storia e invece a giovanni domando questo nel film c'è raccontata la tua esperienza al politeama che ci hai confermato qui ci sono anche le testimonianze di drusilla marchini franco godi ecco c'è qualcosa di forte che accomuna voi del politeama cioè vi sentite in qualche modo una comunità grazie l'idea di raccontare questa storia come favola è che talmente tutto assurdo cioè assurdo che ci sia un edificio accanto nel cuore di una città così importante che è stata importantissima sia per la storia artistica ma anche industriale italiana il tessile accanto al duomo al duomo dove ci sono gli affreschi di lippi dove ci sono c'è il pulpito di donatello accanto proprio a 50 metri c'è questo edificio incredibile che è stato costruito tra l'altro da uno che era io dico sempre come se fosse totti dei primi del novecento perché era un giocatore di pallone elastico all'epoca il calcio non esisteva lo sport più diffuso era questo di tirare delle pallonate contro un muro no contro un muro a tennis però col braccio c'era questo signore che era nato a prato pallone elastico esatto il pallone elastico questo signore si chiamava banchini che era il totti del pallone elastico giocava a bologna però era di prato quando andò in pensione era pieno di soldi disse ma che faccio io con sti soldi e non è che andò diceva beh investo titoli in fondo in svizzera come farebbe oggi un calciatore questo disse costruisco un teatro quindi questa è una favola cioè oggi questa è una favola poi a un certo punto c'è uno che dice un direttore di fa banca che ha questo stabile che l'ha preso perché gli hanno fatto le fiduzioni eccetera e dice che facciamo lo facciamo diventare una piccola scala di prato no facciamo un garage un parcheggio quindi è una favola tragica e a lieto fine eccetera quindi mi sembrava che raccontarla sotto forma di favola fosse la chiave giusta e poi soprattutto quello che io dico che drusilla non è lì perché abbiamo fatto il cast prendiamo drusilla prendiamo drusilla come cacamo è parte integrante della storia fa parte di quella storia perché se drusilla è drusilla lo deve alla signora betti e lo dice anche con un grande commozione esattamente si è accettato di fare questo documentario un documentario chiaramente non prodotto da netflix come potete immaginare molto indipendente lo ha fatto per passione per riconoscenza nei confronti di questa donna giovanni ma diciamo che il collante di questa comunità è sicuramente stata roberta quindi ogni anno i studenti effettivamente sono sempre cambiati io ho frequentato due anni la scuola però c'è sempre stato soprattutto negli anni immediatamente successivi in qualche modo un punto di riferimento a prato roberta stessa ciclicamente comunque mi ha sempre chiamato chiedendo informazioni su su come andassero le cose i primi concerti del primo tour che io feci dopo la vittoria al festival di sanremo ma anche poco prima facevo questi concerti nelle case i live at home e lei mi disse ma facciamone uno qui quindi diciamo è sempre stata presente ha sempre accompagnato le fasi artistiche della mia vita quindi in questo senso sì c'è c'è stato un c'è stata una una comunità si è creata una comunità effettivamente io per sintetizzare chiudere si prego no volevo dire chiaramente ho parlato di netflix non l'ha prodotto netflix invece l'abbiamo l'ha prodotto camillo esposito insieme al rai cinema insieme al mic quindi lo vedremo sulla rai a breve sia la regione toscana e la fin commission che appunto sono ancora delle fonti di finanziamento del cittadino dipendente molto importante è importante io però se sei d'accordo vorrei che questa e non abbiamo tempo mi dispiace no vabbè se è brevissima e purtroppo non è stata colpa mia i fotocall vabbè prego io ho due domande scusatemi per la mia per il mio accaloramento perché una conferenza stampa serve per andare oltre a quello che si è già visto sullo schermo una domanda al regista anzi due è una è la documentazione l'ho trovata particolarmente ricca di materiali e a questo punto dove dove siete andati a spruzzare ad esempio il primo la prima partecipazione in palcoscenico di nuti credo che non si sia mai vista prima il secondo luogo mi sono domanda più personale che coinvolge un po' tutti suggerite nel nella vicenda la vicenda biografica della betti che lei abbia che ha avuto una reale relazione amorosa con la sua compagna perché adesso che lei oramai non c'è più la cosa non viene detta in maniera più esplicita perché questa perché questa reticenza grazie allora per quanto riguarda il materiale di repertorio allora prato è una città abbastanza strana perché legata a tutto il settore del del tessile c'è questo istituto che formava tutti quelli che lavoravano nel comparto che si chiamava istituto buzzi e questo buzzi aveva una tradizione un po di goliardia che è diventata importante perché poi è in questa questa tradizione produceva ogni anno dei degli spettacoli di varietà in cui gli studenti inizialmente erano soltanto i maschi che facevano gli attori e quindi erano tutti vestiti da donne nelle parti femminili producevano questi spettacoli con musiche che venivano composti gran parte di questi li ha composti l'abbetti con un suo omonimo non erano parenti anche lui si chiamava abbetti e cantati e recitati dagli studenti del di questo istituto buzzi e uno degli studenti chiaramente era nato a prato era francesco muri e chiaramente esiste un archivio di tutti questi materiali ma sono archivi personali di tutti quelli i ragazzi che sono ormai cinquantenni che hanno conservato questa cosa siamo riusciti ad averli perché c'è un'associazione sull'altra domanda allora è chiaro che tutta una vita queste due persone hanno convissuto insieme ora una forte amicizia io non sono andato a indagare oltre questa cosa viene raccontata viene raccontata anche dalla dalla marchini per un rispetto per un per una diciamo una riservatezza che è durata tutta una vita non è che io potevo anche perché ci sono degli eredi eccetera e quindi detto questo si capisce chi vuole non c'era bisogno di mettere no di mettere i manifesti sì però se una persona è arrivata a 80 anni senza senza volerlo dire io ho il dovere di rispettare quel tipo di riserva grazie a tutti la donna che riapriva i teatri grazie francese grazie 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 a tutti.